Scatta un nuovo allarme sanitario in provincia di Salerno e ancora una volta all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Tre infermieri in servizio presso la struttura dell'agro sono infatti risultati positivi al tampone per la febbre suina. Avevano lamentato i classici sintomi dell'influenza ma più persistenti del solito. Dall'approfondimento sarebbe emersa l'infezione da virus AH1N1. Adottate tutte le contromisure necessarie e le verifiche del caso per capire dove e come i tre dipendenti dell'ospedale Nocerino abbiano potuto contrarre l'influenza. Nei giorni scorsi proprio ad Umberto I era stata riscontrata la presenza del virus ad una donna ricoverata nel reparto di malattie infettive. La direzione sanitaria ha comunque escluso rischi di contagio anche per evitare allarmismi. Oltretutto sono già state attivate tutte le procedure per stabilire se ci sono delle correlazioni tra la donna ricoverata qualche giorno fa e di tre infermieri finiti ora sotto osservazione. L'influenza suina è una variante di quella stagionale che ha messo capo moltissime persone. Per chi ha fatto il vaccino oltretutto non dovrebbero esserci problemi di sorta. Tuttavia il decorso medico viene eseguito con molta attenzione per scongiurare il rischio di complicazioni.